Un anno e mezzo di lavoro per la nascita del portale di Reset, presentato ieri nella sala Angioi della provincia. Sostanzialmente è una piattaforma nella quale sono coinvolti tutti gli attori principali del territorio, comuni, università, parchi e tutti gli aspetti economici che oggi contribuiscono al rilancio e all'occupazione di questo territorio. Questa piattaforma vuole avere un ruolo guida. Dieci di attori istituzionali coinvolti nel progetto, dall'Università ai Gal, ai parchi di Porto Conte e Asinara, fino ai comuni del Coros. L'iniziativa si rivolge in particolare a una categoria di persone. Il destinatario è chi viene in Sardegna e vuole avere da una piattaforma tutte le risposte possibili in quel territorio. Quindi questa è la finalità, avere un unico interlocutore che ci sappia dire com'è la viabilità, ci sappia dire quali sono le opportunità turistiche, ci sappia dire chi può accoglierli. Tra i partecipanti l'Università, che medita un impiego dello strumento in uno scenario più ampio. La questione importante da dire è che avanti abbiamo presentato a Cagliari il piano strategico del turismo regionale, dove abbiamo costruito una scatola, oggi lo dirò, e dove auspicabilmente tutti i progetti devono entrare dentro una scatola, perché altrimenti qua non si riesce a sinergizzare le istituzioni che si occupano di questi temi.